Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi andiamo a introdurre una nuova rubrica capitanata da Gianfranco riguardo il socialismo liberale, ma più in generale la nascita del socialismo dalle sue origini fino al novecento, in una serie di otto video. Oggi nel primo video andremo a trattare del sogno socialista, io non mi dilungo più di tanto e lascio la parola a Gianfranco. Il tema di oggi è il quadro che si presenta da metà del settecento in poi, all'interno del quale ci sono i germi della nascita del sogno socialista. Parliamo chiaramente di illuminismo, parliamo chiaramente di un illuminismo pre-rivoluzionario, cioè prima della cosiddetta rivoluzione francese. Parliamo quindi di un quadro sociale e politico impostato su uno schema fisso piuttosto soffocante rispetto ai fermenti della società, che è improntato proprio sulla staticità di un sistema assolutistico. abbiamo uno stato assoluto, con un monarca assoluto, che accentra in sé tutti i poteri di influenza sullo stato e sulla società, e quindi un quadro piuttosto rassicurante ma a contempo soffocante rispetto ai fermenti della società. Fermenti di una società che in un quadro pre-borghese già pretendono spazi diversi e una dinamica diversa. quindi lo schema assolutista del monarca assoluto nella sua solidità va in crisi e questa crisi è testimoniata proprio dalla nascita della teoria di Montesquieu sulla separazione dei poteri. Il ruolo di Montesquieu in questo ambito è un ruolo importantissimo e anche questo è un ruolo preso socialista. Montesquieu cosa teorizza? Teorizza che il potere giurisdizionale, il potere governativo, il potere legislativo, non possono più essere accorpati in un'unica entità. Bisogna che siano separati perché quel tipo di società che sta nascendo nelle sue diverse categorie sociali ed economiche ha bisogno di questa separazione. chiaramente la teoria di Montesquieu scardinerà la figura del monarca assoluto e scardinerà lo schema dell'assolutismo che è uno schema che crea insofferenze a due nuove fermenti della società e da un lato sono i fermenti sociali tipici di una categoria di persone come la borghesia che matura esigenze diverse da quelli della precedente categoria che era la nobiltà dall'altro l'associazione di persone più insofferente del potere assoluto è la sorgente o risorgente, se vogliamo chiamarla, massoneria che mal sopporta il potere assoluto perché già ha delle istanze predemocratiche dentro dettate e moltiplicate anche dalla teoria della separazione dei poteri che mirano ad un assetto più dinamico della società in quest'ambito si configurano filosofi e pensatori che esprimono proprio l'esigenza di modificazione di questo quadro rigido, precedente e tra questi pensatori l'identificazione più importante è quella di Rousseau e di Voltaire diciamola in ordine Voltaire e Rousseau Voltaire è un pensatore candido e cinico allo stesso tempo che rivoluziona la società perché introduce il concetto cardine della massoneria che è il cosiddetto relativismo che sarà poi il principio per cui la massoneria verrà scomunicata che cos'è il relativismo? il relativismo è rimuovere il dogmatismo dal pensiero e dal progresso per accedere a un'idea di conoscenza e di evoluzione che sia sempre in moto che non sia mai uguale a prima che sia sempre diversa il relativismo e dire guarda questo che dici tu adesso è vero ma domani potrebbe non essere più vero Voltaire col suo elogio della tolleranza introduce il relativismo è il grande introduttore del telerativismo tant'è vero che ormai molto anziano viene accolto in massoneria proprio con questo merito nella loggia delle nove sorelle di Parigi mentre Rousseau introduce un altro concetto collegato al relativismo Rousseau introduce la convinzione che dietro la civiltà umana e l'evoluzione dell'uomo ci sia il buon selvaggio ci sia un personaggio puro incontaminato da alcuni aspetti della società moderna o contemporanea che incarni quello che c'era di buono di progressivo e di progredito nelle generazioni che ci hanno preceduto anche il buon selvaggio è un concetto relativista anche il buon selvaggio è un concetto evolutivo di evoluzione e non dogmatico e sul buon selvaggio è incardinata l'intera ricerca pedagogica di Rousseau che ha degli effetti rivoluzionari perché porta a cercare in ogni isola di Robinson Rousseau il buon venerdì cioè il buon selvaggio questi due aspetti rivoluzionari sono introduttori dei germi del socialismo perché il socialismo siccome la massoneria introduce la libertà come cardine dell'evoluzione umana e quindi conseguentemente la ricerca della libertà a questo punto il socialismo inteso come ricerca della libertà non dimentichiamo che poi la libertà diventerà uno dei cardini anche dei valori della rivoluzione francese libertà egalità che sono cardini socialisti perché la ricerca dell'uguaglianza della libertà eccetera eccetera è una chiave socialista una chiave nuova per quella società e lo scardinamento quindi dei valori dogmatici della società assoluta conduce inesorabilmente alla introduzione di questi concetti che sono innovativi il terzo è la fratellanza che si basa proprio su una concessione egalitaria del genere umano siamo tutti uguali quindi siamo tutti fratelli la introduzione quindi dei germi del socialismo nella società francese pre-rivoluzionaria è qualcosa di fortemente anche massonico è qualcosa di fortemente illuministico e di fortemente massonico configurantesi nella ricerca del relativismo come valore di progresso e di civiltà rispetto all'assolutismo e nella ricerca della realizzazione dei valori del buon selvaggio come quasi un ritorno alla società dell'oro quella che ha ispirato tutte le concezioni neoclassiche che noi conosciamo che si basavano sul mito di ristabilire una regola aurea di equilibrio e di armonia nella società questo quadro dobbiamo tenere di riferimento per capire come si fa strada in quella società asfittica bloccata eccetera eccetera un nuovo anelito di libertà fratellanza e uguaglianza che è presocialista e poi diventerà socialista ho finito allora grazie Gianfranco due cose che mi preme sottolineare molto importanti che ha detto anche Gianfranco riguardo la divisione dei poteri di Montesquieu in tre appunto è la prima perché appunto Montesquieu come sappiamo riprende dal secondo trattato del governo di Locke e ad esempio Locke divideva il potere in federativo legislativo ed esecutivo il giudiziario era appunto un misto era accorpato all'interno del potere appunto legislativo stesso e l'ultima cosa è importante che ha detto Gianfranco appunto questo anelito alla pre valori pre-rivoluzionari quindi libertà uguaglianza e anche tolleranza nel suo trattato sulla tolleranza che invitiamo sicuramente a riscoprire a leggere lo riteniamo molto importante detto questo io spero che il video vi sia piaciuto noi vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti